Stamattina sono cotto dopo la serata alpinita Ragazzi ci siamo eh? Quasi finito tutto Fox Bobo Ore qua Grande esibizione Esibizione Come è? Quasi pronto eh? Ci siamo ci siamo Cornoretta Massimo due orette ci siamo Pronti per la Bobo Summer Cup L'unica cosa che manca Che non abbiamo comprato sono i palloni Sto scherzando Ci siamo ci siamo Ci siamo Ragazzi Materassi Magniflex Non me la stendere sui da materassi da Magniflex eh? Non cominciare subito Oh ben svegliato eh Ehi Claudio sei arrivato ora? C'è il bisteccone Luca Toni Aldino da Milano E i pupazzi e i pupazzi Eccoli qua E il fisico Ehi Mario Allora IlCare Ragazzi sono qua con Alessandro Bruretti, lì ciao, abbiamo fatto la primavera a Torino insieme, lui è quello che mi ha dato il nome Bobo, bene? Bobo nome Bobo, quindi siamo molto molto contenti e domani dobbiamo fare lo stesso altre 5 mila, massa o meno, la gente si è divertita, ho tirato giù persone dalle tribune oggi abbiamo finito la prima giornata della Bobo Summer Cup, grandissimo successo, sono molto molto contento, abbiamo raccolto 5 mila euro, più o meno e devo dire che erano soddisfatti, erano contenti, ci siamo divertiti e ora vado in alberga a farmi un massaggio al polpaccio perché è spappolato, ciao a tutti una vita, sesso e rock'n'roll, para pa pa bravi ragazzi da veri soliti Inzaghi, para pa pa, da veri soliti Pippo ci siamo, ci siamo, c'è anche l'uccello, ma com'è che nonostante io rimane lato tardi tra 15 minuti cominciamo, facciamo un po' di giochi con i bambini stamattina, facciamo divertire e dopo facciamo un po' di partita, oggi fa caldo, sono già 32 gradi, c'è un pappagallo che urla mentre faccio la story, però... fulgare ... pá ... ...